Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Ieri ho lanciato un sondaggio su Instagram, ovviamente mi raccomando iscrivetevi a tutti i miei social, like al video, iscrivetevi al canale, tutto quanto, per sapere una vostra impressione, per avere una vostra opinione riguardo l'apertura di un secondo canale. Il feedback è stato positivo e il 75% di persone hanno risposto che avrebbero voluto un secondo canale di Virgo, un'idea che già mi balenava in testa da un po' di tempo però che adesso penso che sia venuto il momento giusto per aprirlo. Questo perché, come sapete, questo canale è tipicamente a stampo calcistico, a volte tech, quindi gameplay di football manager, calcio reale, post partita, consigli per i pc, le build, chi più ne ha più ne metta. Però sentivo l'esigenza di qualcosa di più. Non volevo fermarmi al solo calcio, anche perché comunque è un argomento tanto famoso, tanto dibattuto, quanto di nicchia, perché comunque non prende un pubblico così ampio da potermi soddisfare appieno. Insomma, è la mia passione, il calcio, ne ho tante altre passioni. Però ecco, ho deciso appunto per questo di dedicarmi ad altro, nel senso anche ad altro. Quindi aprite questo secondo canale che si chiamerà Davor Virgo Extra, ovviamente qui sotto nell'info box troverete anche il link, perché comunque sarà attivo, tra virgolette, operativo da novembre, ma comunque il canale esiste già. Farò ovviamente anche un video dai primi di novembre sul canale stesso per spiegare un pochino il tutto in modo un po' più organica. Ho avuto appunto questa necessità, perché sono sempre stata una persona che vive di progetti e onestamente devo essere sempre stimolato psicologicamente, devo essere sempre motivato e ragazzi il pur argomento calcio mi imbrigliava, anche perché voglio parlare di altro, voglio parlare di altro che sia tutto fuori che il calcio. Quindi magari che ne so, può essere la musica, può essere il discorso tech, può essere un discorso di come tanto va adesso, il Q&A o queste cose qui, insomma un tema vario, fatto fondamentalmente basato su uno stream of consciousness, quindi su un flusso di coscienza, mettere più me stesso, piuttosto che sul canale principale, che è questo qui Davor Virgo, dove ripeto è un po' più di nicchia, quindi football manager, gameplay come vi ho già detto. E ripeto, sarò aperto, mai come da novembre, a consigli, suggerimenti, dibattiti, discussioni, confronti con tutti voi. Perché anche da una minima cosa può nascere un video, può nascere un'idea, può nascere un qualsiasi cosa che mi possa ispirare a pubblicare un video appunto su Davor Virgo Extra. Ripeto, sicuramente niente di calcistico, se devo pubblicare qualcosa di calcistico, voglio pubblicare qualcosa di calcistico, c'è comunque Davor Virgo. Quindi, ah una cosa vi dico, io poi spiegherò meglio su questo video che farò, ma un argomento non vorrò trattare e non tratterò. È la politica. È la politica perché, per quanto ognuno abbia le sue idee, ma il mio obiettivo è di creare una bella community. Ma è come ora la politica divide, quindi cercherò di evitare o comunque lascerò cadere discorsi puramente politici o che comunque possono scadere in quel tipo di, diciamo, di sfumatura. Ecco, quindi Virgo non ha colore, Virgo ha soltanto una filosofia che è quella appunto di creare una community, di parlare, di confrontarsi e questo, divertirci insieme, avere nuovi spunti. Anche sul punto primo vi ho invitato anche a seguirmi sui social, perché comunque appena riuscirò darò anche un po' più di regolarità al discorso Piattaforma Viola, quindi porterò anche più in live, o meglio, scusate, l'italiano è un po' andato a farsi benedire, andare più volte in live e sul canale, appunto, di Piattaforma Viola porterò indistintamente contenuti sia di Davor Virgo che di Davor Virgo Extra. Ovviamente spoilerò un pochino, giusto per settorializzare un po' la cosa, ok? Che magari uno può essere interessato a Vigo Extra, ma non è frega niente il football manager, per farvi un esempio. Quindi, ecco, volevo annunciarvi questa cosa, sicuramente ci sarà un intro, vedrò per qualche sigla, insomma, faccio tutto da solo, dal video editing alle sigle e tutto quanto, quindi voglio dire, vedrò un attimino la mia testolina, quello che mi dirà, e gli argomenti che mi suggerà per i primi video. Detto ciò, penso di aver parlato anche troppo, mi raccomando, iscrivetevi al canale Davor Virgo, lasciate un like se vi piace, se vi è piaciuto, e se vi è in info box, ripeto, vi lascio anche tutti i miei contatti e anche il link a Davor Virgo Extra, il nuovo canale del vostro Cavaliere d'Oro, della Sesta Casa. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!